Giuseppe Conte ha rilanciato il dialogo con i Verdi europei e ha precisato che si sta lavorando perché il gruppo europeo dei Cinque Stelle possa collaborare con i Verdi, perché obiettivamente il gruppo dei Cinque Stelle ha quasi votato per il 90% le stesse cose dei Verdi. C'è un tema di differenza e di valutazione, che è il tema della guerra, perché il gruppo europeo dei Verdi sulla vicenda ucraina ha preso la posizione di una forte azione a sostegno dell'Ucraina, che va bene se però non diventa il consentire addirittura l'uso del PNRR per gli armamenti, che è una cosa onestamente insopportabile. Quindi bene ha fatto Conte a ribadire questo dialogo, io penso di sì, però ve lo chiedo a voi, perché è ovvio che i Verdi europei sono la formazione che non è né quella dei socialisti né quella delle destre ed è la formazione con cui i Cinque Stelle hanno sempre avuto rapporti. Tra l'altro Conte ha avuto l'incontro con i dirigenti dei Verdi europei, è stato a Bruxelles a fare questo incontro e io credo che Conte può essere un punto di riferimento importante per creare quell'alleanza per il clima, per l'ambiente, per la terra, che è un'alleanza fondamentale se si vuole cambiare Unione europea, perché le destre faranno campagna sul grande tema dell'ambiente dicendo che non vogliono le auto elettriche, che non vogliono l'innovazione, che non vogliono le case sistemate, che non vogliono il super bonus, faranno campagna alle destre contro il reddito di cittadinanza europea, contro tutta una serie di valori che invece devono essere parte fondante dei Cinque Stelle ma anche sono parte fondante dell'azione che da sempre fanno e devono fare i Verdi in Europa. Quindi io la prima cosa che vi chiedo è, facciamo questa valutazione, che cosa pensiamo di fare? Siamo d'accordo che bisogna rifondare tutte le realtà europee e dobbiamo riuscire ad arrivare ad avere a mente un'Europa che sia Europa dei popoli, sia Europa della pace, sia Europa dove il reddito di cittadinanza sia un diritto in tutti i paesi europei, dove il salario minimo che già esiste nella gran parte dei paesi sia imposto come regola europea comune. Se l'Europa è una dove le tasse diventino uguali, non è possibile che l'Olanda, il Lussemburgo siano dei paradisi fiscali, ci siano grandi multinazionali, anche italiane, che vanno a mettere sede là ed evitano di pagare le tasse nel nostro paese. Queste cose dobbiamo dirle, queste cose dobbiamo farle sapere, queste cose dobbiamo affermarle. E poi c'è Salvini, c'è Salvini e quando parlo di Salvini ovviamente tutti dicono, ma questo, Salvini che sta preparando? Sta facendo un nuovo papetè? Cioè Salvini vuole far saltare il governo? Io ho un raro caso in cui sono pure contento se Salvini fa saltare il governo, ma sono contento se diventasse diventasse almeno un po' serio. Basta parlare ancora di nucleare, ma Salvini, ma ha capito Salvini com'è il nucleare, come funziona? O non sa nemmeno com'è una centrale nucleare, ma lo sa che in Francia hanno tante centrali nucleari e non sanno come raffreddarle perché non hanno più acqua necessaria a salvare le centrali nucleari. Allora? Allora? Ieri a Roma c'è stato contrasto sul reddito, devono riportarli a meno fino a dicembre? Certo, no, ma io credo che noi dobbiamo riprendere e non consentire che si tolga il reggio di italianza, perché è sbagliato, è sbagliato. Non si può accettare che non ci sia una misura, possono cambiare il nome se vogliono, ma la sostanza deve essere quella. La sostanza è che chi non ha nulla deve avere qualcosa in un paese civile, come succede in Germania, come succede in Francia, come succede in Inghilterra, anche se Inghilterra ora non sta più nella UE, ma fa parte di quel contesto di paesi europei che si pongono il problema della lotta alla povertà. Punto. Questo bisogna fare. Oggi vi sto parlando da Parma, quindi sono anche in ritardo sulla scadenza ordinaria di quando ci vediamo e mi scuso per quelli che sono abituati all'orario delle 18, ma devo dire che sono qui per parlare di sicurezza alimentare, per parlare del futuro del cibo, per parlare di queste cose e prima ho fatto un incontro con una televisione locale e tra l'altro ringrazio anche le amiche del gruppo territoriale di Parma dei Cinque Stelle che sono venute e mi fa molto piacere vedere e sentire la vicinanza di tante persone che sul territorio vogliono parlare, vogliono discutere, vogliono essere cittadini politicamente attivi, protagonisti e questo è fondamentale, noi dobbiamo avere questa presenza, dobbiamo avere questa attenzione, dobbiamo avere un'azione continua e quindi quando dico Salvini, secondo me Salvini si deve dimettere, noi questo dobbiamo fare, dobbiamo fare un hashtag Salvini dimettiti, condito con varie cose, Salvini si può dimettere per mille motivi, una delle cose evidenti è che ha fallito sulla politica dei migranti, la Lega ne ha fatto una grande battaglia e poi lui che fa? Chiama la Le Pen, quella della destra francese che viene appuntita a dirgli guarda che i migranti te li tieni tu perché noi ce ne freghiamo dell'Italia e lui la applaude pure, ma veramente siamo a questo livello, Salvini applaude la Le Pen che viene a dire praticamente fregati, mentre la Meloni era andata a Lampedusa a portare la Presidente della Commissione Europea e chiede sostegno all'Italia per difendere i confini dall'immigrazione illegale ma soprattutto per cercare una soluzione perché poi tu puoi parlare che difendi i confini, ma se non hai degli strumenti o sei folle e pensi a ammazzare la gente, credo che nessuno osi dire una cosa così vergognosa se non qualche squilibrato di quelli che vanno al raduno di Pontita, quelli che dicono che bisogna regalare Lampedusa all'Africa, voi avete visto il leghista, e mica è stato cacciato dal loro, mica è stato cacciato dal convegno, cioè loro al convegno avevano uno dei loro militanti attivisti che diceva normalmente che bisognava regalare l'isola di Lampedusa all'Africa e che bisognava portare gli abitanti di Lampedusa che non solo hanno subito e subiscono da anni una pressione assurda di essere diventati la porta sud di tutta l'Unione Europea ma addirittura secondo il leghista dovrebbero essere deportati, quindi cacciati da loro case, dalla loro identità, dalla loro storia, un'isola che ha una storia millenaria, quindi non è un'isola artificiale, ma dove vivono questi, dove vivono questi deficienti devo dire, in quale, sopra quale cucuzzolo, di quale montagna abbandonata hanno vissuto, in quale caverna, come giustamente oggi ho visto qualcuno ha osservato, perché oggi non ne hanno fatto un'altra delle loro, quale hanno fatta delle loro? Hanno attaccato il direttore, consigliato stimato come un esperto di grande qualità del Museo Egizio di Torino. Cos'è il Museo Egizio di Torino? Lo conoscete? È una bellissima cosa, uno degli orgogli italiani, è uno dei più famosi musei al mondo di antichità egizia, dopo il Cairo, dopo quello di Londra, che è molto importante, sostanzialmente uno dei grandi musei del pianeta. Moltissimi turisti vengono a Torino per vedere il Museo Egizio. Che cosa succede? Il direttore del Museo Egizio cosa ha fatto? Qualche anno fa, addirittura parte del 2018, quindi parliamo di cinque anni fa, fece un'iniziativa promozionale per far visitare di più il museo per i cittadini di lingua araba. Perché l'ha fatto? Perché secondo voi qual è il più grande e popoloso paese arabo al mondo? L'Egitto. E tutti questi grandi reperti, perché li abbiamo? Perché in passato gli europei prendevano delle mummie, prendevano le antichità e le portavano qui per aprire i musei. C'è una grande attenzione da parte di questi paesi che vorrebbero riavere, almeno in parte, le loro opere d'arte, come noi chiediamo le nostre opere d'arte a volte, poi non ce le ridanno. Ma ovviamente in gran parte le chiediamo. Allora cosa ha fatto? Intelligentemente il direttore del museo. Ha detto cerchiamo di avere un gesto di attenzione ai cittadini di lingua araba, visto che quello del museo egizio è che ha le antichità del più popoloso e influente paese arabo al mondo, che è l'Egitto. Tanto complicato da capire per un leghista? È così complicato capire? Questi che hanno detto che era una discriminazione, ma veramente sono così deficienti? Era una discriminazione addirittura. Cioè, invece di pensare che dire se sei cittadino di lingua araba, compri un biglietto e te ne do un secondo, quindi tra l'altro compri il biglietto, quindi non te li regalo. Compri un biglietto e te ne regalo un altro per un'altra persona in modo da allargare la cosa. Poi si poteva riprodurre, si poteva dire facciamola anche per altri... Però aveva un senso, perché stiamo parlando del museo egizio del più grande paese arabo e di parlare ai cittadini di lingua araba, appunto. È così complicato da capire che era un'iniziativa intelligente? E invece di complimentarsi che hanno fatto? Capisco quando stavano all'opposizione dovevano fare un po' di casino. Ma dopo cinque anni che state al governo, i leghisti che fanno chiedono di cacciare il direttore per una vicenda di cinque anni fa perché lo considerano troppo di sinistra. Ma che significa troppo di sinistra? Ma quanti direttori di destra sono stati mantenuti al loro posto anche se a governare era il centro-sinistra? Ma è giusto, ma i direttori dei musei devono essere catalogati adesso a sinistra, ma vi pare possibile? Sono funzionari che rispondono allo Stato, ma di che stiamo parlando? Ma quale mente bacata può pensare di considerare che un direttore deve essere cacciato perché non è abbastanza vicino al governo attuale? È chiaro che c'è una rivolta, perfino Sgarbi che in genere ha sempre da dire qualcosa di particolare, ha difeso il direttore perché lo conosce essendo uno che si occupa di arte, quindi oltre a dire cose a volte un po' sulle righe però Sgarbi, obiettivamente sui temi dell'arte c'è sempre stato attento e anche lui che è sottosegretario di questo governo ha preso le difese del direttore. Quindi che significa? Significa che i leghisti stanno cercando di minare il governo ma non hanno il coraggio, la capacità, la decenza di dare le dimissioni perché stanno attaccati alla poltrona. Loro vogliono stare attaccati alla poltrona, insultare la Meloni e cercare di prendere qualche punto in più all'Europa e questo vogliono fare. Campano di questo. Invece di pregare, di pensare alle... vogliono inserire qualche altro familiare chiede giù. Allora, il problema sono quelli che l'hanno votati e quelli che l'hanno votati sono un problema ma noi dobbiamo puntare a quelli che l'hanno votati non capendo e quindi non che sono completamente hanno perso il cervello, hanno portato il cervello d'ammasso. E poi a tutti coloro che invece non sono andate a votare. Ragazzi, non vi dimenticate, l'anno scorso alle elezioni ha votato pochissima gente, c'è stata di nuovo un'astenzione altissima in molte tornate elettorali. Ormai vota meno del 50% dei cittadini. Io sto in Emilia Romagna e in Emilia Romagna ormai le regionali molto spesso si va sotto il 50%, ma di che stiamo parlando? Allora significa che c'è tantissima gente che si può convincere, si può conquistare al voto se semplicemente non parliamo solo alle stesse persone e se cerchiamo di ragionare con tutti. Questo dobbiamo fare. Dobbiamo riportare al voto le persone che giustamente sono schifate perché vedono che non si riesce mai a sganciare niente, a eliminare i legacci del passato. È una situazione assolutamente ingestibile. Poi vi do una notizia importante perché faremo un bellissimo incontro a Milano, chi è di Milano può partecipare, gli altri potranno vedere, pubblicheremo poi tutti i lavori di questa conferenza che facciamo a Milano sul turismo sostenibile. La faremo il 27, quindi mercoledì prossimo, il 27 settembre, che è la giornata mondiale del turismo, nessuno se lo ricorda, nonostante che noi siamo un grande paese turistico, non ci sono vere iniziative per questa giornata, noi lo facciamo da anni, presentiamo il tredicesimo rapporto degli italiani e il turismo sostenibile, ci saranno rappresentanti sia istituzionali sia delle imprese che fanno e presentano delle best practice turistiche, significa delle cose nuove, delle cose innovative, delle cose positive. Noi dobbiamo innovare questo paese, dobbiamo fare in modo che sia un turismo nuovo, capace, dinamico, efficace e lo possiamo fare. Quindi il 27, quelli che si trovano a Milano e vogliono venire devono scrivere, iscriversi e vi ho pubblicato anche tutte le modalità per partecipare, gli altri possono anche scrivere sul gruppo Ecodigia 2050 o amici di Alfonso Petro Arroscanio e vi daremo tutte le informazioni necessarie per avere poi il video e per poter sapere dove vedere anche questa bellissima manifestazione. Ecco, io voglio soprattutto ricordare quindi all'origine quello che vi ho detto. La prima cosa è importante, questa conferenza stampa oggi di Conte che ha parlato dei temi della scuola e cose varie, ma ha fatto riferimento anche al lavoro in corso con i Verdi europei per fare in modo, perché i 5 Stelle in Europa sono nel gruppo dei non iscritti, quindi non hanno riferimenti. Conte è già stato a fare gli incontri con i Verdi europei e sta lavorando per cercare di creare una collaborazione con i Verdi europei. Poi le modalità della collaborazione si può vedere perché è evidente che il tema della guerra non è un tema secondario. Io sono dell'opinione che in Europa c'è stato in generale una sottovalutazione dell'importanza delle azioni per la pace. Non è possibile che sia votato facilmente per usare i fondi del PNRR per le armi, ma scherziamo. Ci sono cose che non possono essere sottovalutate, anzi noi abbiamo bisogno di rafforzare in Europa anche alle prossime elezioni europee coloro che hanno una politica ecologista e pacifista, questo è fondamentale e quindi dobbiamo lavorare in questa direzione. Allora io vi saluto perché sto qua per iniziare il convegno, sto bevendo perché ho finito di parlare, un'ora e mezza a un altro convegno sui temi dell'innovazione, ho presentato anche il libro, ricordate il libro che ho scritto su Marco Pannella per ricordare Pannella come anche persona che si occupata dell'ecologia, il primo che ha fatto campagna veramente contro il nucleare, dobbiamo a lui, anche a lui, ma a lui molto il fatto che l'Italia sia un paese senza centrali nucleari, che non ha i drammi dei paesi che hanno il nucleare e che adesso sanno quanto è complicata la situazione dell'approvvigionamento dell'uranio, sappiamo la crisi in Niger, il colpo di Stato, tutte queste cose legate all'uranio, legate a questa roba, quindi bisogna lavorare con molta attenzione su questo. Allora io vi saluto, vi auguro una buona serata e soprattutto vi chiedo di essere sempre rigorosamente attenti, rigorosamente attenti. Allora dici che Santoro vuole andare agli europei di calcio? No, forse alle elezioni europee. Le europee sì, sicuramente sono una campagna elettorale importante, però bisogna capire con quali strategie. Il rischio che ci saranno tanti partiti, partitini, dispersi. Io credo che servirebbe una grande alleanza per il clima, per la terra, per il nuovo, anche se è possibile già alle europee. Io sapete che sono di quelli che crede che Conte deve essere quello che guida, ma si candidi o non si candidi, ma serve un leader aggregatore e Conte ha le caratteristiche di essere il leader del centro-sinistra, dei progressisti. L'alternativa, l'alternativa, ecco c'è anche chi dice che la terra resta è piatta come il mare. L'alternativa alla destra può essere oggi guidata e coordinata da Conte. Non ne vedo un altro che sia in grado di fare questo tipo di percorso. Dobbiamo fare in modo che molte realtà, della società civile, amministratori locali, persone, lo spingano in questa direzione. Andare all'europeo con tanti partiti e partitini non è una grande scelta, perché la destra si aggrega e punterà tutto la campagna su Fratelli d'Italia. Noi dovremmo avere una grande alleanza per l'Europa e per il clima, basata su Conte e sul Movimento 5 Stelle, che però si allarghi a tante realtà della società civile che possano essere a sostegno di un'operazione forte. L'obiettivo deve essere di diventare il primo partito italiano. Questa è la botta che si può dare alla destra e questa è la botta che si può dare alla Meloni. Questa è la botta. Mentre loro si scanneranno sul tema migranti, cose, il disastro che hanno combinato, servirebbe un grande momento forte che permette di fare la sfida. Il PD permettendo, almeno per ora il Movimento 5 Stelle e Conte potrebbero aggregare tutti coloro che si sentono pacifisti, ecologisti e innovatori. Non dico di aggregare il PD, ma sfidare i Fratelli d'Italia come per essere il primo partito. Il Fratelli d'Italia sta al 27, i 5 Stelle stanno al 17. Si può fare in modo di pensare che il Fratelli d'Italia scenda al 24 e i 5 Stelle ritornino al 25-26%? Secondo me questo è l'obiettivo. Se non lavoriamo in questa direzione, ti dico la verità, io personalmente li voterò, ma non vedo quell'entusiasmo che vorrei avere nel fare una battaglia per vincere, non per partecipare. Ci riusciamo? Cerchiamo di far capire che è questo quello che dovremmo fare? Non lo so, però Conte è quello che lo può fare. Poi c'è qualcuno che dice che Conte è il peggio, io non la penso così e quindi direi che chi ha l'idea che Conte sia il peggio di tutto, forse è bene che non partecipi a questa nostra discussione. Se hanno questa idea, sciò. Possono anche... No, ma i verdi italiani non sono quelli che possono determinare, la scelta la fanno i verdi europei, non la fanno i verdi italiani, quindi non vi preoccupate, non è questo il tema, anzi i verdi italiani io spero che prima o poi capiscono che devono partecipare a una grande alleanza perché non servono tanti partiti ma serve una grande alleanza che batta la destra, c'è non possiamo stare a guardare ognuno all'orticello o anche all'orto grande ma perché intanto che uno fa tutte queste discussioni intanto governa la Meloni, no? E Salvini fa il pazzo ma non lascerà mai la poltrona, cerca di fare un papiti ma fare un papiti permanente senza avere di fronte uno come Conte che da quella pazzia di Salvini ha accolto l'occasione per metterlo a posto e per rilanciare il Conte 2, questa è stata la differenza. Va bene, io vi saluto, vedo che tra l'altro devono iniziare adesso la conferenza e questo convegno sulla sicurezza alimentare per rilanciare che in Italia non vogliamo carni stranamente realizzate, non vogliamo situazioni anomali, vogliamo fare cose assolutamente nuove e dobbiamo farle, dobbiamo farle con forza. E i verdi europei sono a favore dei milioni, non tutti i verdi europei sono a favore, quindi se ci fosse una forte presenza in collegamento con i verdi europei noi dobbiamo spostare i verdi europei alla posizione tradizionale che era quella pacifista, è anomalo per i verdi una posizione che sia favorevole alle armi, tanto per essere chiari, quindi dobbiamo lavorare, d'altra parte se è contato a parlarci significa che Conte vuole discutere con quelli o no, o pensiamo che è meglio stare nei non iscritti e non contare niente al Parlamento europeo, secondo voi è meglio non contare niente? I non iscritti non hanno manco diritto di parola in molte situazioni, non hanno la possibilità di presentare ammendamenti, non hanno possibilità, quindi non è che Conte ha fatto una cosa strana, ha fatto una cosa da persona intelligente e razionale di cercare il collegamento con quelle realtà che sono più vicine. Ovviamente il tema della guerra è un tema così irrilevante che va chiarito subito, perché non è che uno può aderire a una scelta che non condivide su un tema così delicato, poi su altre cose ci sono temi diversi. Va bene? Un saluto e buonasera da tutti.